Siamo in compagnia di Giacomo Bloise alla termine di una partita molto combattuta, Fiorentina Basket-Monte Catini, una partita che non volevate chiudere? Diciamo che ci siamo un pochino complicati la vita, abbiamo fatto comunque un'ottima partita perché poi venivamo da 14 giorni inattivi e con così tanto tempo in cui non provi comunque una partita ufficiale fai fatica. Invece siamo stati bravi, a livello offensivo abbiamo fatto comunque un'ottima partita, a livello difensivo abbiamo peccato in alcuni ambiti però comunque tutto sommato siamo soddisfatti. Questa era la prima di coach Nicolai in panchina, come è stata per voi? Beh è stato diverso, è stato diverso perché comunque ovviamente stando in tribuna era un pochino più difficile magari comunicare a livello di gioco, a livello di sostituzione e tutto. Invece così ci ha dato comunque una buona carica, era molto tra virgolette più facile comunicare e di conseguenza ha portato i suoi frutti. Omegna ha vinto, Cecina ha perso, Moncalieri ha vinto fuori casa a Piombino ma voi siete nei piani alti? Sì, è quello che alla fine ci eravamo detti all'inizio stagione, noi volevamo competere per stare tanto in alto, sicuramente magari con Omegna potrebbe essere la squadra un po' più attrezzata però noi stiamo facendo il nostro percorso e speriamo di continuare così.